Shuuuue! Antes! Buongiorno! Come state? Iniziamo questa nuova puntata di Final Fantasy VII! Che giochino abbiamo qui vicino da fare, a parte quello? Perché quello lì non mi piace, quello che ci ha fatto vedere prima. C'è anche il focus fotografico? Ma io direi di fare un altro giro di questo. Facciamo un altro bel giro di questo qua, e poi ci andiamo a dare da mangiare al Chocobo, così completiamo. Vediamo se stavolta riusciamo a fare più velocemente. Grazie a tutti. Stavolta che sappiamo la posizione, può essere che facciamo più velocemente. Almeno ci proviamo. Grazie a tutti. Oh, che casino. Questo attacco fa perdere un po' di tempo? Sembra che è più veloce. Fa un po' di tempo lo si perde. Noi, 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 noi. Non so se ce la facciamo a fare di tutti. Ci proviamo. Ci proviamo. Ce la stiamo mettendo tutta, non so se si vede. Ancora no. Ancora no. Ancora no. è difficile. È difficile. È difficile, è veramente difficile. Però sicuramente forse ce l'abbiamo fatto, abbiamo vinto la carota. Ok Non ci aveva dato la carota mi sa Ci proviamo di nuovo Mi sembra di no Ok Una volta facciamo un'altra stare delle gear Vai 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 decolla c'è un'è 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 un'è? ci vorrebbe tipo un'arma più veloce per poterlo fare tutto vai 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 questa ancora non è ora nel frattempo ho un drollo c'era un dembo là aspetta aspetta e un altro dembo là sopra ok preso queste ormai le prendiamo tutte vaffanculo ma da dove erano? erano qui quello ti frega ogni volta non so se abbiamo superato beh il record l'abbiamo fatto sicuramente non so se ci ha dato però la carota si credo che ce l'abbiamo vediamo no non ce l'ha data mmm fangulo aspetta niente dobbiamo andare a aspiranti truffatori per forza in pratica dobbiamo confrontare la mappa vediamo e ci sono i vari step uno quindi uno deve essere qua tipo c'è ascensore di risalita? aspetta aspetta questa qua è la casa che si vede lì? questa è la casa che si vede lì? aspetta ok quindi in pratica dovrebbe essere qua qui dove c'è la bagliega degli incarichi il numero uno ok perché ce la possiamo fare ok qua eh no no per ora giocare a carte ma dobbiamo farlo per forza? aspetta vediamo no no ma è qua aspetta e dove siamo noi? noi siamo qui? dovrebbe essere qui accanto? vediamo dobbiamo girarci qui 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 ah ah ok c'è la chiave dell'orto secondo pezzo secondo pezzo secondo pezzo e dove ci sono tutte quelle cose ammucchiate? le case ammucchiate ok qua e dovrebbe essere lì il secondo pezzo aspetta noi dove siamo? ok è un casino è veramente un casino aspetta ok dritto scusa là come si va? ok 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 le case sono queste no? ok ok questo c'è il negozio ok 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 ma qua doveva essere aspetta io ok ok 1 e 2 qua possiamo proseguire a vedere che c'è qua qua dietro vediamo a che ti già ok oh sì ecco ah no ecco 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 Ok, top Perfetto, ce l'abbiamo fatta Ok Vai vai Andiamo a consegnare quella carota Ce l'ha fatta sudare la carota Comunque questa parte Un pochino Non mi fa imbazzire Un pochino noiosetta Ok, mangia, mangia Pico Nostro amico Pico Ok Ok Scusiamo Ma intanto un salvataggio ce lo buttiamo Perché non sappiamo effettivamente Che cosa può succedere Magari salviamo qua Ok Ok Ok, facciamo questa forza Ci siamo preparati Proprio per quello Ok, seguiamo la tizia La maid E poi ci siamo Infilati all'interno della Della ringhiera Adesso per guardare Pico Chocobo 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 Eh, se ne piglia di tempo Per farci fare Questa costa Ci sta facendo dire Pietà Facci correre Pietà In effetti Il nostro cacciatore di Pokémon Va bene Se corre Ok Quindi quello è solo per allenarsi Per capire come funziona Vabbè, ci sta, dai Ok, quindi si può migliorare Si può Ok, iniziamo la corsa Abbiamo visto che c'erano delle personalizzazioni Da poter fare Penso una volta che completi un po' di giri Ok Noi andiamo dritti alla meta Nella nostra La nostra coppa Chocobo Ok Vai Via Ok Grande lui Questa è la città 8 Ok Ok Dai che siamo in testa Dai Che figo però Vai Volevo prendere più di uno Abbiamo Siamo usciti fuori Vai 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 Che ce lo possiamo fare lo stesso No No Ok Dai che ci siamo Stop Stop No In realtà li abbiamo stracciati Grande 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 Top Ok Ok Ma che è? Pazzo Com'è? Bellissimo Bellissimo Un infatti ha fatto una promessa oh finalmente ho se un sire oh Ok ci siamo Vai Speriamo che ha detto la verità Non si vede niente ma che è Sembra il passaggio delle fogne Quello di Final Fantasy 15 No infatti ma oggi no Sicuramente queste fogne Sono piene Le mostriciattoli Quelle le abbiamo evitati Per non perdere tempo Prendi una nuova Per un po' di maggiorana Tutto sto casino Avvolto io guido Ok Bellissimo qua fuori Top Ovviamente dobbiamo stare attenti Perché ci sono là un bel po' di Di perdi tempo Infatti lui ci porta proprio lì Lievito per ora raga Perché Non mi va di perdere un po' di tempo Combattendo In questo momento ho bisogno di vedere storia Poi se voglio giocarlo Di nuovo Per perderci un po' di tempo E personalizzare Magari il personaggio Personalizzare Comunque Portarlo a livelli Diciamo più alti In quel caso Lo Lo ricominceremo Credo che Dobbiamo andare da là Vediamo Tipo la ricerca delle materie Eccetera eccetera Anche se io comunque Di solito Nei videogiochi Non Non vado molto Ad approfondirli Cioè Li approfondisco Comunque di mio Per altre cose Ma non Completarle al 100% Non è di mia interessa Eccolo E ora Cazzo rollo Cazzo rollo Cazzo rollo Cazzo rollo Cazzo rollo GOLD Ha In che senso Tutta colpa mia Mamma mia Il suo miglior amico E quindi C'è 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 Grazie a tutti. 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 Ok Hunters, per oggi finiamo qui. La storia è veramente carina, vediamo un po' come andrà a finire questo scontro tra amici e noi come sempre ci becchiamo al prossimo video, iscrivetevi, lasciate qualche like e commentate. Ciao belli.